1. Maggioranza assoluta dei voti 311. Hanno ottenuto voti Roberto Fico 422, Giacchetti 102, Fraccaro 7, Brunetta 3, voti dispersi 5, schede bianche 60, schede nulle 21. 1. Proclamo eletto Presidente della Camera l'Onorevole Roberto Fico. Mi recherò immediatamente la Camera l'Onorevole Roberto Fico. Mi recherò immediatamente a comunicare al Presidente eletto il risultato della votazione. La seduta è sospesa.